ectoplasma che cosa si sa adesso dell'ectoplasma commento si sa quello che si poteva indagare con la mente agli inizi del contatto con i piani superiori di esistenza cioè nulla inoltre gli studi sull'ectoplasma si sono molto ridotti perché il contatto con i piani superiori di esistenza si è specializzato verso l'insegnamento e quindi sono divenuti rari gli strumenti che producono fenomeni fisici ed ectoplasma visibile lo stesso non è per l'ectoplasma che non cade sotto i sensi degli sperimentatori che continua ad essere prodotto per permettere lo svolgimento di tutta la prassi medianica anche quella di insegnamento grazie 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 grazie